Io ho sentito e ho visto dei bellissimi bambini splendidi, ho visto anche dei genitori o delle persone che dicono di essere genitori perché alcuni lo sono biologicamente, altri non lo sono perché giuridicamente non lo sono e neanche biologicamente lo sono in una misura, perdonatemi, a nascondersi dietro la bellezza e la luce che emana da quei bambini perché io ho visto due bambini che non hanno la mamma e che non l'avranno mai e che non sapranno neanche cosa significhi avere la mamma e ho visto due splendidi bambini che hanno due mamme ma che non avranno mai un papà. Ora per la mia esperienza, più che di padre, più che di avvocato, di politico, quello che vi pare, io mi ritengo un papà sufficiente. Vi assicuro che io come mamma faccio schifo e mia moglie, che tutto sommato credo che sia un'ottima mamma, ma vi posso garantire che come papà è un disastro. Perché? Perché ci sono due figure e quelle due figure non sono, non le ha inventate il papa, non le ha inventate Pillon, quelle due figure sono quelle che la natura, o per chi ci crede il buon tifo, ha messo accanto a ogni bambino perché possa...